Marte di Grasso IDS Marte di 17 febbraio Burz presenta Crazy Carnival Dopo il grande successo di Capodanno in console sei DJ esperienza musicale completa Marte di Grasso IDS Marte di 17 febbraio premi per le tre maschere più belle e alla prima classificata un viaggio ad Amsterdam Marte di 17 febbraio Info e prenotazioni tavoli al 338 277 9449 IDS Costa Morena Brindisi Brindisi